Ciao a tutti i gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen Ragazzi, come di consueto, on the map 1D alle 14, siamo qui su FIFA 16 E ragazzi, oggi partiamo subito con la nazionale, l'ultimo giorno per convocare i giocatori Allora, vedete, qua c'è Chiellini infortunato, quindi devo trovare un difensore Io direi di mettere off-on Ok, poi Abbiamo infortunato immobile, quindi bisogna trovare un attaccante Ok, io direi di mettere Eder E anche Mario Vallotelli è infortunato e quindi io direi, ragazzi Ok, Giuseppe Rossi potrebbe andare bene Eccoci giunti nella prima partita del giorno che sarà con la Fiorentina E esattamente siamo contro i Leicester nel ritorno dell'Europa League Vi ricordo che l'andata abbiamo vinto 4-0 E sono con la formazione tipo, ossia Zara, Tecala, Nici, Bracikoski Vasquez, Borcavaliero, Fernandez, Masina, Stori, Rodríguez, Abate e Tata Dusami Ragazzi, ovviamente la partita è quasi chiusa perché 4-0 l'andata Però comunque dobbiamo fare attenzione e quindi vediamo come andrà questo ritorno Eccoci qui ragazzi, partita di Euroleague che sta per avere inizio Se dicessimo di ottavi di ritorno Matti Fernandez dentro, Blacikoski, prova subito il tiro, miracolo del portiere Okazaki per Vardy ancora, teniamo Vardy Attenzione è dentro Pallan Attenzione ancora al Leicester che provò un'azione d'attacco Pallone messo dentro, è scettato, lo sanno benissimo All'inizio ancora Bello lo scatto di Kalinic Dentro, Matti Fernandez Può arrivare al tiro, devi aprire Pallone cross dentro, calcio d'angolo Pallone che rimane lì e Schmeichel ancora Attenzione qui ora Vardy Attenzione Leicester che prova questa azione pericolosissima Corre Leicester, bravissimo Gonzalo Rodriguez E allora Matti Fernandez Ho visto lo scatto dall'altra parte di Blacikoski Che prova subito Blacikoski, bravissimo Rientra, finita, bellissima di Blacikoski Ancora dentro, col tiro E niente da fare Zarate dentro Verso Kalinic Kalinic è solo Kalinic il tiro, la parata ancora Schmeichel Milacolo Non è finita però Pasquez Cross dentro, Matti Fernandez il gol Passiamo in vantaggio 1-0 per noi Meritatissimo questo vantaggio Guardate qui il cross Matti Fernandez, bellissimo colpo di testa 1-0 Sono ora il Leicester che prova subito una reazione Leicester in avanti Cross dentro, colpo di testa Bravo Tata Lusano Ancora il Leicester che insiste Ancora un cross Ancora Vardy C'è il pareggio No Kazaki Ragazzi non si arrende Leicester E arriva al pareggio pochi minuti dopo il nostro vantaggio Rivediamo Guardate qui O Kazaki 1-0 pari Bella partita Ancora Leicester O Kazaki ancora Dentro Tiro Fuori Leicester che attacca Non è dentro Kalinic ancora Si gira Kalinic Molto bravo Dentro bellissimo Blasikoski al tiro Schmeichel Para Pallone che rimane lì Nulla da fare E finisce il primo tempo ragazzi Leicester che è venuto a giocarsi la partita Nonostante che sia sotto 4 gol Comunque si sta giocando la partita E per ora siamo 1 pari Vediamo come andrà questo secondo tempo Nel risultato Blasikoski Cross Dentro ancora Mati Fernandez Fuori di pochissimo Vicino al 2-1 Ancora Mati Fernandez Porca Valero dentro Blasikoski Ah grande Blasikoski Bella finta Allora se ne va Blasikoski Palone dentro Blasikoski ancora E solo il tiro di Blasikoski Incorage Michael Miracolo Miracolo Porca Valero Arriva il tiro Rimpallato Palone che rimane lì Esce Schmeichel Allora c'è Ignazio Abate Il cico Palla messa fuori E fermato Benissimo Da Borca Valero Poi il tiro Fuori Blasikoski ancora Bravissimo Blasikoski il tiro Rimpallato Palla che rimane lì Nulla da fare Basquez Martin Fernandez Ancora Per Basquez Tiro di Basquez Parata Ancora Miracolo Di Schmeichel Possiamo ancora Palla dentro Kalinic Miracolo ancora Di Schmeichel Doppio miracolo Ancora Martin Fernandez Il tiro Ancora Schmeichel Che para E finisce la partita Uno pari Un Eccesser Che si è venuto a giocare Adizia aperto Ha giocato molto meglio Rispetto all'andata Io ho veramente S'ilassato Però ho sferato Molte più volte il gol Uno pari Tutto sommato Che è giusto Che mi va bene Anche perché mi permette Di avanzare Nei quarti di finale Di Europa League Ok ragazzi Eccoci qui Abbiamo avuto 750.000 euro Per aver aggiunto I quarti di Europa League Ok ragazzi Eccoci giunti Al risultato Delle partite Di Euroleague Con Nantesport Contro Questa è la formazione Che ho scelto Con Eder E Giuseppe Rossi In avanti Cassano dietro le punte Buonaventura Pirlo E Candreva Centrocampo Cricito Bazzagli Bonucci Darmian In difesa E Buffon In porta Ok ragazzi Andiamo nel match Eccoci qui giunti Ragazzi Amichevole Canada Italia Che saprà avere Inizio Qui Giuseppe Rossi Dentro Eder Tiro di Eder Miracolo Palla dentro Colpo di testa Mincora Il difensore Che salva tutto Ancora Pallone Messo dentro Palla che rimane lì Colato Di tiro al volo Nulla da fare Ancora Cassano Tiro di Cassano Traversa Poi ancora Palla di nulla Da fare Attenzione qua Ora Il Canada Il Canada Che avanza E c'è il gol Incredibile In vantaggio Il Canada Ragazzi Al primo tiro Vi vediamo il tutto Sono passati in vantaggio Al primo tiro Guardate qua Che azione È in ritardo Darmian 1-0 Per il Canada Dobbiamo recuperare L'azione qua Candreva ancora Candreva Bravissimo Candreva Calcio d'angolo Colpo di testa C'è il pareggio Andrea Pirlo Questa volta Arriviamo al pareggio 1-0 Pari Rivediamo Calcio d'angolo Di Candreva Sono vero Guardate Stacco di testa Di Pirlo 1-0 Pari Cricito Attenzione Eder Eder che avanza Eder E poi sbaglia Il tiro Attenzione Andrea Pirlo Guardate che lancio Perfetto Per Giuseppe Rossi Che avanza Giuseppe Rossi Pepito Rossi Ancora Pepito Rossi Ancora Il tiro di Pepito Rossi 2-1 Bellissimo Gol Radoppiamo Eccoli qua I 2-3 Piccini Guardate che lancio di giro Stop di tacco Ragazzi Guardate qua Tinta E grande Tira a giro 2-1 per noi Bellissimo Gol Attenzione Attenzione Al Canada Ora Che pericolosissimo Vicino al pareggio Il Canada Subito in azione E finisce il primo tempo Ragazzi Oltre gol Poi tiri Siamo riusciti a ribaltare La partita Contro un avversario Tecnicamente Molto Molto Scatta Eder Eder Si ferma Eder Tribling Lascia la punizione Allora Attenzione Ragazzi Se proviamo con il maestro Andrea Pirlo A pulgare il portiere Se ne è Pirlo Parte C'è il gol 3-1 Il maestro Andrea Pirlo Non mi sbarca Rivediamo Guardate qui Perfetto Guardate All'angolo 3-1 Per noi Guardate ancora qui Bellissima punizione Di Andrea Pirlo Siamo qua Il Canada Che è Verde Dribling Ancora il Canada Molto bello Il dribbling Attenzione Colpo di testa Darmian salva Poi ancora il Canada Vediamo Serie di limpaglia Attenzione Al Canada Ora Bellissimo Il Canada Il tiro di buffo Parato Ancora il tiro fuori Canada Bella azione Questa qui Non è battuto fuori Colpo di testa Miracolo Del portiere Del Canada Attenzione Qua ancora Il Canada Se c'è il palo Il gol Accorce le distanze Su un'azione Roccambolesca 3 a 2 Però ragazzi È veramente Un gol stranissimo Vi vediamo qui Guardate qui Un tiro Brutto Deviato Forse proprio La deviazione È ingannato Anche Gianluigi Buffon 3 a 2 Accorce le distanze Il Canada Guardate qui E finisce la partita Ragazzi Un bel match Tutto sommato Giocato molto meglio Da parte nostra Però come punteggio 3 a 2 Quindi Il Canada Comunque Ci ha dato Filo da torcere Solo a livello Di punteggio Ok ragazzi Anche questo episodio Si è concluso Nel prossimo episodio Di mercoledì prossimo Alle 14 Giocheremo Contro il Sudafrica Nella seconda Amichevole Con la nazionale E poi torneremo Con la Fiorentina Nella sfida Di campionato Contro il Frosinone Ragazzi Come sempre Vi invito a lasciare Un like Se questo episodio Vi è piaciuto Commentate Se avete qualcosa Da dirmi Mi farebbe molto piacere Leggere i vostri commenti Condividete Se l'avete fatto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Consigliate Se l'avete anche I vostri amici Qui sotto Come sempre Trovate tutti I miei social Quindi passate Dalle mie pagine Se l'avete ancora fatto Ci vediamo Mercoledì prossimo Alle 14 Con un nuovo episodio Della carriera Di fa 16 Qui da AngeloDi83 Tutto E ciao Gamers